E andiamo ora a parlare di questo salvataggio spettacolare, intervento di soccorso effettuato ieri sera per il recupero di tre alpinisti romani rimasti bloccati sotto la vetta centrale del Corno Grande. Il tecnico di elisoccorso alpino e speriologico, grazie alla preparazione di piloti e tecnico verricellista che operavano con le pale dell'elicottero a pochissimi metri dalla parete, è stato sbarcato sul posto e in pochi istanti ammesso in sicurezza e predisposto all'evacuazione degli alpinisti e degli alpinisti mediante verricello. Un intervento che si è concluso fortunatamente nel migliore dei modi grazie alla profonda conoscenza del territorio del tecnico di elisoccorso e dell'equipaggio che ha consentito una rapida risoluzione in condizioni di sicurezza sia per il personale a bordo che per i richiedenti aiuto.